Ciao a tutti, oggi realizzeremo una ricetta davvero furbissima, semplicissima e veloce da preparare, oltre che essere buonissima. Si tratta dei bomboloni di patate senza glutine e senza lievitazione. Per realizzarli ci occorreranno 300 g di patate pesate già lessate, 150 g di farina di riso o poco più, questo dipende da quanti liquidi contengono le patate, 3 cucchiaini di lievito istantaneo per salati, anch'esso senza glutine, sale quanto basta, io solitamente ne utilizzo un cucchiaino, 3 cucchiai di pecorino, mentre per la farcitura, per il ripieno ci occorreranno, io utilizzo il petto di tacchino al forno, poi potrete utilizzare tranquillamente anche il prosciutto cotto, un po' di provola e stracchino. Quindi iniziamo subito la nostra preparazione col mitico schiacciapatate e quindi andremo a schiacciare la quantità di patate che ci occorre, quindi in questo caso 300 g, in un'altra ciotola. Poi andremo ad unire la farina di riso, sempre pesandola sul momento, almeno a me viene più semplice così, e andremo a mescolare il tutto con l'aiuto di una forchetta. Aggiungiamo adesso il cucchiaino di sale, continuiamo ad amalgamare, aggiungiamo anche il pecorino e aggiungiamo adesso i 3 cucchiaini di lievito istantaneo per salati. Questo pizzaiolo è veramente ottimo e oltretutto è pure senza glutine. Ora iniziamo ad amalgamare con le mani, ci trasferiamo sulla spianatoia, mi raccomando se notate che l'impasto risulta ancora sbricioloso aggiungete ancora un po' più di farina, infarinate adesso il piano di lavoro e stendete la pasta, l'impasto, fino a formare un rettangolo bello compatto. Quindi ci aiutiamo anche col mattarello. Ora ricaviamo dei dischi con l'aiuto di un coppapasta delle dimensioni di circa 8-9 cm. Questo comunque è irrilevante, potrete farle delle dimensioni che più vi piacciono, le vostre bombe salate di patate. E ora andremo a farcire con il ripieno che abbiamo scelto, quindi io in questo caso ho scelto lo stracchino, la provola e il petto di tacchino al forno e poi andremo a coprire con l'altro disco. Mi raccomando fate attenzione perché i bordi devono essere ben sigillati, quindi devono aderire per bene gli uni con gli altri. Non preoccupatevi se sulla superficie si formano delle piccole crepe, è normalissimo, poi le andremo a sistemare e a richiudere per bene con le mani. Io ho voluto formare col rimanente impasto una piccola pallina ripiena di stracchino, visto che qua non si butta via nulla. E quindi andremo a sistemare i nostri bomboloni di patate su una teglia rivestita con carta da forno, li andremo a spennellare con l'olio e andremo ad infornare a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed eccoli pronti, guardate che belli che sono, hanno il ripieno, il cuore filante, buonissimi. Questi vanno gustati tiepidi ovviamente, in modo tale che il ripieno sia ancora bello cremoso. Io i bomboloni di patate li ho voluti fare al forno, però se voi volete, quindi queste a vostro gusto, a vostro piacimento, li potrete anche friggere. L'impasto avanzato ovviamente si può rilavorare e ristendere con tutta tranquillità e quindi con le dosi che vi ho dato e con le dimensioni sono usciti circa sei bomboloni. Spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, vi mando un grandissimissimo bacione e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!